Oggi parliamo di conciliazione, volevamo raccontare quella che è la nostra storia in tema di conciliazione. Noi parliamo nel 2012 con un primo progetto organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona. Il primo step importante è stato conoscere i nostri collaboratori, quindi attraverso delle interviste, dei questionari che abbiamo fatto all'interno dell'azienda, abbiamo cercato di capire quali erano le necessità dei vari collaboratori, quindi la conoscenza dei nuclei familiari, degli anziani in famiglia, figli o necessità di vario tipo. Una volta stilata un po' una sorta di problematica generalizzata, che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di lavorare su tre, quattro aspetti fondamentali. Un primo aspetto, abbiamo lavorato su un maggiordomo aziendale, quindi avevamo una figura a disposizione di tutti che un giorno alla settimana veniva utilizzata per andare a fare la spesa, per andare in farmacia, per andare a ritirare alle poste qualcosa, addirittura chi l'ha usato per lavare la macchina, quindi qualcosa veramente di particolare ed è stata sicuramente una delle cose ben recepite da parte dei collaboratori. Seconda cosa, lavoriamo con tantissime donne, quindi sappiamo benissimo che a differenza di noi uomini e le donne dopo le otto ore lavorative tornano a casa e devono passare parecchio tempo a stirare, cucinare, quindi avevamo pensato, facendo una collaborazione con una lavanderia locale, di far portare in azienda gli indumenti familiari, quindi la camicia del marito, il vestitino da scuola del figlio e cose varie. Una lavanderia ritirava il tutto, dopodiché la settimana dopo riportava i panni stirati e puliti e riprendeva quelli della settimana nuova. Il grosso vantaggio, che cosa è stato? Di aver centralizzato un servizio che veniva qui in azienda. Uno degli aspetti fondamentali con questo bando che volevamo fare era di spostare quella che normalmente, cioè il punto di riferimento di una persona, normalmente è la famiglia, volevamo far sì che il punto di riferimento fosse l'azienda. Nel 2014, terminata la prima esperienza con la Camera di Commercio, il bando si è spostato in regione Lombardia. Se nella prima parte del progetto la grossa diffidenza delle persone era ma perché l'azienda mi chiede com'è composto il mio nucleo familiare, quali sono le problematiche, quando siamo arrivati poi a regione Lombardia venivamo già da due anni di esperienza di questo tipo, quindi si era creata una cultura aziendale e non solo aziendale perché durante questo periodo i mariti delle persone, delle nostre collaboratrici ci chiamavano e ci chiedevano se potevano esportare questi progetti anche all'interno delle aziende dove lavoravano loro. Quindi il bello di aver creato una cultura che si stava diffondendo molto velocemente sul territorio. Comunque arrivati in regione Lombardia abbiamo cominciato a andare a lavorare anche su altri servizi di conciliazione, per esempio il sostegno ai doposcuola, a pagare le rette degli asili, i crest estivi e cose di questo tipo. Il coinvolgimento era diventato sempre più ampio, avevamo coinvolto anche il comune dove abbiamo l'azienda e abbiamo supportato tutto il crest estivo per far sì che in periodi dove i genitori lavorano e i figli non sono più a scuola ci fosse un sostegno dal punto di vista, chiamiamolo, di gestione dei figli o cose di questo tipo. Devo dire che la cosa positiva che in questi anni abbiamo visto è crescere un affiatamento nei confronti dell'azienda. L'obiettivo che ci eravamo posti di diventare il riferimento per il nucleo familiare era raggiunto, tant'è vero che oggi che stiamo costruendo una struttura nuova nel comune di Bagnolo Cremasco, abbiamo già pensato e stiamo già costruendo una palestra interna, quindi mettiamo a disposizione anche dei servizi al di fuori del puro ambito lavorativo, ma sempre più nella direzione di supportarci, non lo so, per esempio penso alla ragazza che anziché andare in palestra dopo lavoro fa palestra nella pausa pranzo o cose di questo tipo e quindi non toglie tempo a quella che è la famiglia. Quello che abbiamo scoperto è che si può fare imprese in modo diverso, noi abbiamo una percentuale di donne, ma ripeto, oramai non è solo più un discorso di uomini o donne, spesso in famiglia abbiamo avuto mariti che hanno gestito l'allattamento perché le mogli magari non potevano farlo o viceversa. Si può fare aziende in modo diverso? Sì, sicuramente non siamo una onlus, facciamo business, ma fidelizzare le persone, far sentire le persone bene quando sono in azienda aiuta a lavorare meglio, aiuta a avere la mente più libera e aiuta a avere una marcia in più rispetto a un mercato che si fa sempre più difficile. Sai, si possono distribuire bonus in tanti modi, economicamente o magari con servizi di questo tipo. Fondamentalmente è un sistema che sta diventando più moderno, più funzionale, fidelizza sicuramente di più le persone e ha dei grandissimi risultati. Grazie. Grazie. Grazie.